Salvatore, amici, indiricati di coppia. È lui, è il principe di Persia. Il Vesel. È bello vederti sano e salvo. Questa storia dell'eroe sta andando troppo avanti. Hai già salvato il cittadino. Questa storia dell'eroe sta andando. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no cibo preferito. Le melegrane. Non mi piacciono le melegrane. Com'è possibile? Sporcano, è indecoroso mangiarle. Tutto quel lavoro per pochi semi. Ma è il lavoro che le rende più dolci, non credi? Credo che vomiterò. Che cos'è questo posto? È il cuore dei giardini pensili. Questi sono strumenti di vita. Regolano e muovono tutto.